I carabinieri della stazione di Pantelleria, diretti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, hanno arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un isolano classe 93 disoccupato con precedenti di polizia e percettore del rendito di cittadinanza. Nell'ambito di servizi periodicamente messi in atto dai militari dell'arma presso gli scali portuali e aeroportuali volti al controllo di cittadini che approdano sull'isola, è stato sottoposto a perquisizione personale un 29enne appena sbarcato presso il molo Voitila da un traghetto proveniente da Trapani. All'esito di predetta attività, i carabinieri hanno rinvenuto, occultati all'interno di uno zainetto nella disponibilità del giovane, due involucri di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso complessivo di 190 grammi e ulteriori due involucri contenenti cocaina per il peso di un grammo. La sostanza stupefacente è stata sequestrata dagli operanti mentre il 29enne è stato tratto in arresto. All'esito dell'udienza di convalida, il giovane è stato sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e al divieto di allontanarsi dal proprio domicilio nelle ore notturne, così come disposto dal GIP del Tribunale Lili Betano.